Sì ragazzi, terzo gruppo, partiamo oggi, siamo staccati. Ale, povero culo, via, è fresco eh, via pure, oggi ragazzi non c'ho voglia, ve lo dico, via. Lo so che non è la crono all'inizio, ma io faccio come se fosse una maratona, quindi mi sono andato a prendere il secondo gruppetto, tutte le soddisfazioni personali, dai, poi gli altri scaltano tutti la crono e mi sorpassano, va bene. Allora ragazzi, inizia la salita di 16 chilometri a passa, buttiamo sul 1.300, subito così, boom! E' iniziata la parte crona ragazzi, io faccio il mio passo, come sempre, ho cercato di non avere nessuno davanti, così, siccome è single trail, non mi fa nessuno da tappa. Al limite, mi sorpasseranno. Bello qui. Fortuna che era scorrevole, mancano 13 chilometri alla fine della prima salita, mille metri ancora. E' vero. E' vero. E' vero, ragazzi. Profittiamo di un attimo di quiete, perché purtroppo abbiamo un mountain biker solo. Scoppiato. 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 Facciamo un annuncio. Achtumbite Bademeister Transpeer. Abbiamo perso due pampini, Luca e Massimo erano a portati due pontan bike, e non si sono più visti. E' che uno, chi se ne frega, a Massimo Amen, era individuale. Ma l'altro farebbe coppia con Giovanni, che stava ricucendo, ma con un fantasma. Stavo ricucendo nel frio. Io poi gli davo il mio pettorale a questo punto. Marca vacca. Vuoi dirgli qualcosa? Ma papà, come? Mi dico, mi dico. Vai, vai forte nel single trail. Esatto. Porchia troia. No, se è così, mi insulterò. Sì. Preparati. Preparati, una doccia di insulti. Altro che. No, mamma mia. Panorama. Allee. E' lunga ancora. 8 solo, 794. E qui si sale di nuovo. Sono a metà salita, forse. Forse. Forse, ma forse. Bello. Un po' meno scorrevole di prima. Ma bello. Mancano 6 km a finire staccato di prima salita. Comincio a perdere un po' di colpi. Non c'è più di tutto. Massimo di 1, dato come una schiopettata. Grande. Sono in modalità automa. Sai pensare che mancano ancora 110 km? Allucinante. Sono matti.